Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostrerò come si fa una battaglia tra indoor actors, pianosauro e rimetodonica. Siamo nel Zlassico adesso. Ci sono con nivoi, cannivoi e bivoi. Avete sentito il tuo rumore? In un palco dei dinosauri, ci sono tanti animali pericolosi, tipo un paio d'aptor, un dimetodon, un dimetodon di setea e setea. Grazie. 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 Grazie.